allora oggi potrebbe essere l'ultima volta che fa temporali per un pezzo visto che sta per arrivare per gran parte d'italia l'anticiclone africano che porterà le temperature anche sopra i 30 gradi da sud a nord e quindi ricapitoliamo un po quello che è successo oggi i modelli vedevano alcuni temporali partire nel pomeriggio dal piemonte e possibilmente poi andare verso est sempre rotolando sulle pede montane o massimo sulle alte pianure rimanendo comunque molto attaccati ai monti mentre le basse pianure venivano risparmiate totalmente dai temporali è successo davvero così ebbene sì è successo così a parte i primi rovesci che non erano temporali c'è stato forse un fulmine in piemonte partiti sul monferrato nel non primo pomeriggio verso la metà del pomeriggio che sono poi transitati sulla bassa pianura ma solamente come rovesci però con un bel arcobaleno un bel doppio arcobaleno sul vercellese questo bisogna dargliene atto è stato un bel vedere dicevo si sono comunque formati in effetti questi temporali attaccati alle alpi sotto forma di linea temporalesca che ha preso corpo sull'alto novarese tra biellese alto novarese con una shelf cloud davanti al temporale anche se non molto organizzata ma comunque turbolente con una base molto bassa questo temporale è andato poi avanzando verso est nord est rimanendo sempre vicino alle montagne ed è andato verso il varisotto e poi verso l'alta lombardia fino ad arrivare a passare sul lago di seo e verso il lago di garda sul lago di seo ha avuto una fase in cui si è rinforzato di più dopo il passaggio sul lago di garda inserata invece si è poi dissipato un altro temporale questa volta una super cella si è formato invece direttamente inserata sull'alto vicentino con molte fulminazioni come potete vedere questo temporale si è diretto verso est sud est sfruttando il fatto che la rotazione devia il temporale leggermente a destra rispetto a quelle che sono le correnti portanti questo temporale è riuscito a colpire di più la pianura rispetto ai temporali alla linea temporalesca più a ovest questo temporale ha scaricato grandine fino a media taglia con chicchi all'incirca di 4 centimetri di diametro sul trevigiano e ha dato vita probabilmente sul suo outflow a nuove celle che sono in sviluppo in questo momento mentre sto registrando il video comunque questa super cella è stata il temporale più intenso della giornata vedete dai video come le fulminazioni sono molto ravvicinate attività elettrica molto alta ed essendo un temporale a super cella anche la grandina al suo interno è stata la più grossa tra tutti i temporali di questa giornata per un po come dicevo prima probabilmente avremo finito con i temporali arriverà un po di alta pressione e quindi prepariamoci a patire un po di caldo e poi speriamo che i temporali che arriveranno dopo questa fase calda non ci riservino delle brutte sorprese come quelli di luglio dello scorso anno con quei chicchi di grandine allucinanti prossimo prima